Grazie di nuovo Stefano per l'introduzione, sono di nuovo qua, per chi si è collegato ora sono Nicola Marighelli, in rettarto mi occupo di project management e seguo nello specifico quei comuni che hanno deciso di aderire alla misura 141 finanziata con i fondi europei. In questo intervento parleremo sempre appunto della misura 141, cittadino informato, cittadino attivo, gli strumenti open source che possono permetterci di affrontare con serenità la misura e quindi arrivare poi alla severazione finale e all'ottenimento dei fondi. Quindi di cosa parleremo nello specifico? Come abbiamo accennato poco fa, io comune, io cittadino, plone, volto e rettarto, un'evoluzione continua, content type conforme alle linee guida, scheda servizio e non solo, i data element che cosa sono e perché sono fondamentali per rispettare i criteri e la verifica finale, catalogo software open source per l'APA, la condivisione libera che per noi è sempre stato un valore importante. Misurano 141, quindi non servono solo i contenuti e l'architettura informativa, ma anche strumenti sicuri ed affidabili. Nel nostro caso parleremo di plone e di volto e vedremo però adesso nello specifico di che cosa si tratta. Plone è un CMS open source con una solida community di sviluppatori alle spalle, questo garantisce quindi di conseguenza release costanti nel tempo e anche un elevato indice di sicurezza, requisito fondamentale per l'APA, ma oramai non solo, anche nell'ambito privato. Vi parlerà poi meglio Stefano riguardo alla release di plone 6, quindi non scendo ora io nei dettagli. Per quanto riguarda volto, è un'interfaccia web sviluppata con React.js e interagisce direttamente con plone. Permette una gestione estremamente user-friendly grazie degli editor avanzati a drag and drop, cioè a trascinamento, e quindi permettono via browser una fortissima personalizzazione delle singole pagine e dei layout senza avere nessuna conoscenza di HTML o comunque di linguaggi di sviluppo front-end. Come plone è anche volto a una community open source alle spalle che garantisce di conseguenza un costante sviluppo e un'evoluzione nel tempo. Io Comune e Io Cittadino sono di fatto una soluzione sicura per le open source per la misura 1.4.1. Io Cittadino, nonostante sia un applicativo a sé stante, è inglobato all'interno di Io Comune e nascono appunto dagli strumenti che abbiamo citato poco fa. I valori aggiunti sono la semplificazione delle funzionalità per i redattori, una forte trovabilità dei contenuti, gestione dei content type come da linea guida, quindi conformi, e una stanza del cittadino con alta personalizzazione dei moduli online per i servizi digitali, quindi lato operatore. Vediamo quindi i content type conformi alle linee guida, devono rispondere correttamente ai requisiti per essere appunto validabili e seguire le indicazioni dell'architettura informativa. Il redattore si trova a disposizione su Io Comune un'interfaccia semplice e molto intuitiva che lo guiderà nell'inserimento dei contenuti in quei content type in primis obbligatori come la scheda servizio. La possibilità di relazione fra vari tipi di contenuto per favorirne appunto la circolarità delle informazioni, peculiarità da sempre presente in plone. La massima flessibilità invece per quei contenuti liberi che grazie all'interfaccia a volto ci lascia una gestione veramente aperta. Vediamo qui una veloce carrellata dei blocchi che abbiamo a disposizione su volto, sono più di 20 a partire dai blocchi elenco, immagini e molto altro. Adesso vediamo per esempio la pagina di disambiguazione novità, uno di quei content type più liberi, cioè soggetti a una rigidità inferiore. Vedete che qua ho un blocco elenco, posso andare a selezionare in tempo reale le varie tipologie di blocco elenco. Vedete come cambia? Io mi rendo conto subito di quello che sto facendo senza salvare e aggiornare. Selezionando l'altro blocco elenco posso cambiare la tipologia di notizie filtrate. Adesso per esempio vado a selezionare il comunicato stampa. Qua posso aggiungere altri blocchi. Vediamo per esempio prendiamo il feeder SS, adesso non andremo a impostarlo perché non c'è tempo sufficienza, però posso richiamare un feeder SS esterno. Andiamo a prendere un blocco più semplice, per esempio le immagini. Vedete io qua posso inserire un'immagine caricandola dal mio computer. Prendo per esempio questa e sulla destra poi mi ritrovo una serie di impostazioni per impostare la grandezza e eventualmente l'allineamento. Vedete che salvando poi mi ritrovo esattamente quello che vedevo in modalità edit. Tornando qui poi mi ritrovo tutto quello che ho impostato in precedenza e posso eliminare l'immagine con un clic e salvare e ritrovarmi poi l'immagine della schermata pulita. Proseguiamo, questo invece è un content type più rigido, la scheda servizi. Vedete questo è quello che vedrà il cittadino, quindi si ricollega poi al template HTML che abbiamo visto nel precedente intervento. Vedete l'indice, questo è richiesto dalle linee guida, quindi è obbligatoria la sua presenza. L'indice corrisponde chiaramente al suo blocco relativo all'interno della pagina e ogni elemento è verificato poi dal validatore. Quindi questo content type deve rispettare in maniera molto rigida i requisiti. Vediamo a livello lato redattore che cosa si prova. Vedete che quindi ogni blocco, ogni elemento obbligatorio è marcato con un pallino rosso per evidenziarne appunto l'obbligatorietà. Notate che gli argomenti in questo caso sono obbligatori. Sulla sinistra troviamo dei tab, delle voci per andare a filtrare, diciamo, per gli elementi della scheda servizio. Questa è la descrizione stesa. Troverete un'affinità con i blocchi che abbiamo visto prima. Noterete però che sono limitati perché in questo caso la rigidità del content type non ci permette, diciamo, intervetti, tra virgolette, fantasiosi del redattore. Però sarà comunque possibile personalizzare il testo. A chi è rivolto, chi può presentare, altri blocchi non, diciamo, facoltativi, non obbligatori, fino ad arrivare alla prenotazione appuntamento dove si deve inserire il link al sistema di prenotazioni con il relativo data element per poi validare il criterio di verifica. Vedete che se io adesso vado a togliere il campo descrizione obbligatorio e salvo, non posso salvare. Questo chiaramente ci obbliga a salvare una scheda servizio conforme alle linee guida e quindi validabile. Vediamo poi che, grazie a Plone e io comune, è possibile assegnare dei vari gruppi ai redattori presenti in modo da attribuire diversi livelli di intervento. Posso, per esempio, assegnare a un gruppo di redattori la possibilità di modificare una singola sezione del sito. Quindi, se ci sono team differenti legati magari a un'unità organizzativa o un'area amministrativa, posso poi assegnare di conseguenza le possibilità ai redattori di lavorare solo su pagine specifiche. La gestione dei servizi digitali con io cittadino, che come accettavamo prima è completamente integrato all'interno di io comune. Vedete questa è l'area di login dove l'operatore può fare accesso con il bottone quello più in basso dove c'è scritto accesso operatore oppure il cittadino utilizza l'accesso con speed. Vediamo, per esempio, l'area riservata al cittadino. Qui si ritrova il suo cruscotto, diciamo, con la scrivania, i messaggi, le attività e i servizi. Vediamo, per esempio, una pratica in elaborazione, un esempio di pratica in elaborazione dove è possibile anche scaricare in formato PDF. e vediamo anche la scrivania con i messaggi in riepilogo di tutte le attività svolte. In questo caso, invece, è il lato operatore. Ci troviamo le pratiche suddivise con i vari stati, quindi non assegnate, elaborazione concluse e via dicendo, e ogni voce poi al suo interno ha la pratica in dettaglio che potrà essere poi elaborata dall'operatore comunale. Questo è uno screenshot dell'interfaccia, diciamo, del visual composer per le form della stanza del cittadino. L'operatore del comune avrà massima libertà di ricreare dalla modulistica cartacea la modulistica digitale per poi permettere al cittadino di eseguire la propria richiesta online. Quindi massima libertà di poter seguire comunque eventuali metodi di lavoro già precedentemente adottati dal comune. Non sarà necessario stravolgere la propria modulistica. E i data element che cosa sono? E perché sono fondamentali per il rispetto dei criteri. Per facilitare la procedura di asseverazione, chiaramente la domanda essendo molto elevata, è stata sviluppata un'applicazione che si chiama PiaWebsite Validator che esegue delle scansioni automatiche sui siti web per verificare che appunto siano presenti tutte le sezioni necessarie e che singoli content type come la scheda servizi rispecchino i requisiti. I data element quindi sono degli attributi HTML che devono essere inseriti in specifiche parti del sito web che permettono a questo tool di scansionare e identificare le sezioni oggetto di verifica. Vediamo per esempio come in un comune è possibile gestire ed inserire quei data element che non fanno parte diciamo del layout rigido ma per esempio vediamo nelle voci di menu amministrazione, novità e servizi vedete che ci sono i rispettivi data element assegnati. Vediamo poi per esempio nella pagina facciamo, vedete questo è il menu se andiamo a vedere poi nel codice troveremo il data element di conseguenza. Vediamo nella pagina servizi nel blocco elenco, in questo blocco elenco deve essere previsto il data element service link per permettere al validatore di identificare alcune schede servizio. Vedete che sulla destra è già associato il data element di conseguenza. In quest'altro blocco invece devo associare il data element service category link per permettere al validatore di scansionare le categorie servizio attivo. Vediamo qua invece la documentazione delle app di verifica questa documentazione è rilasciata sul portale Air Designers Italia Docs Italia e ci dà in dettaglio indicazioni sul validatore automatico e su come funziona il report. Vedete quello è uno screenshot d'esempio con un risultato più che positivo è indicata tutta la leggenda spiega come viene restituito il report e come interpretarlo in dettaglio. Questa documentazione chiaramente è molto utile per poi saper leggere il risultato finale e quindi capire se siamo in conformità o meno. Vedete qua poi ci sono degli esempi di criteri di conformità con anche gli esempi tecnici cioè che data element devono essere inseriti in quello specifico blocco o comunque in quella sezione. Vedete ogni criterio ha il suo esempio con il codice HTML di riferimento. Quindi le architetture informative layout non sono sufficienti bisogna di conseguenza utilizzare uno strumento che rispetti anche queste indicazioni. Plone con io comune, io cittadino ha seguito la lettera a tutte le indicazioni dell'architettura informativa dei vari template e i requisiti tecnici quindi la conformità è perfettamente rispettata. Il report finale da validare è fondamentalmente una checklist quindi sarà necessario verificare di avere dei contenuti conformi che il layout lo sia e che gli strumenti utilizzati come gli strumenti open source io comune, io cittadino siano allineati con le richieste messe in campo dalle nuove linee guida e che restituiscono un risultato positivo come lo screenshot che vedete qui. Qua vediamo un esempio di report vedete che alcuni hanno il quadrato arancione sono dei criteri in soglia di tolleranza quelli rossi invece sono criteri non validati. Catalogo software open source per l'APA la condivisione libera come dicevamo per noi il rettarto è un valore molto importante e di fatti quindi io comune è rilasciato su GitHub con licenza open. È anche presente all'interno del portale Designers Italia come software open source di interesse per la pubblica amministrazione. Vediamo vediamo nello specifico la pagina di io comune all'interno del portale Designers Italia questo è l'indice di sviluppo lo stato di sviluppo 93% c'è chiaramente rimando al sito del prodotto documentazione codice sorgente alcuni screenshot dimostrativi le funzionalità chiaramente del software l'ambito e qua sotto vedete le amministrazioni che lo utilizzano questo elenco chiaramente grazie alla misura 141 è destinato a crescere in maniera importante l'ambito di applicazione e poi altre informazioni che adesso non vedremo perché purtroppo abbiamo poco tempo. un ottimo esempio di condivisione libera viene dal comune di Piacenza che in completa autonomia utilizza io comune senza essere un cliente diretto di rettartle vedete come il sito del comune di Piacenza risponde alle precedenti linee guida perché questo sito è stato implementato prima della misura 141 ma di fatto sta utilizzando io comune in versione pre-PNRR e il comune di Piacenza ha strutturato il sito e lo ha alimentato e popolato in completa autonomia senza la nostra consulenza ricapitolando quindi per aderire alla misura 141 ed il conseguimento e l'ottenimento dei fondi è fondamentale un giusto equilibrio fra revisione dei contenuti grazie chiaramente alle indicazioni dell'architettura informativa dei layout che rispondono alle indicazioni delle linee guida e strumenti che rispondono invece ai requisiti tecnici io comune grazie a Polone all'interfaccia volto e insieme a io comune a io cittadino in grado di rispondere a tutti questi criteri di conformità mantenendo la sua forte versatilità e di conseguenza una pronta reazione e anche possibili adeguamenti delle linee guida in itinere che non sono da escludere ho concluso io vi ringrazio tanto per l'attenzione ripasso la parola a Stefano buon proseguimento e grazie di nuovo a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti